Siamo dal Palazzetto dello Sporti Pontecagnano al termine della partita fra Salernitana e Grottaglia terminata con il punteggio di 3 a 2 in favore della squadra Granata. Siamo col direttore sportivo Francesca De Santis alla quale voglio rivolgere la prima domanda sulla vittoria della squadra, la prima casalinga. Sì, era importante oggi centrare tre punti per dare continuità anche al risultato di domenica scorsa della vittoria esterna di Taranto. Stiamo lavorando, queste ragazze hanno fatto dei progressi enormi da agosto adesso perché sono cresciute tantissimo. Sappiamo, abbiamo già detto e ridetto che si tratta di un gruppo completamente nuovo, ragazze che non hanno mai avuto nessun tipo di esperienza a livello agonistico come ragazze che provengono dal calcio a 11 ma piano piano ci stiamo amalgamando e si vedono sicuramente i risultati. Quindi era importante questo. Poi mi è piaciuta la reazione del gruppo perché nonostante siamo passati in svantaggio due volte per due volte siamo riusciti a racciuffare la partita e poi a vincerla. Sicuramente la vittoria di Taranto ha portato maggiore fiducia e consapevolezza nei propri mezzi durante anche l'allenamento settimanale. Certo, il morale era alto, volevamo dare continuità come ho detto prima. L'obiettivo resta sempre la salvezza, dobbiamo metterci quattro squadre sotto e sono convinta che se continuiamo così ce la faremo. Quali gli obiettivi della dirigenza, della società? Gli obiettivi sono tanti, i progetti in cantiere ancora di più. Settimana scorsa siamo partiti con la scuola calcio, una scuola calcio riservata alle bambine, la prima scuola di calcio di futsal a Salerno. collaboriamo con un'associazione ASDGAN che si promuove il calcio femminile nelle scuole, quindi stiamo cercando di raggiungere un numero cospicuo di ragazzine per poter fare degli allenamenti e per poi in prospettiva poterli aggregare alla prima squadra. Ok, grazie mille.